Si è discusso in aula delle liberalizzazioni attuate da Monti, quindi le aperture indiscriminate degli orari e degli esercizi commerciali. Noi siamo contro questa norma, siamo per ridare in capo alle regioni, agli enti locali, la possibilità di decidere quando far avvenire le aperture dei singoli negozi. Singoli negozi, in particolare le piccole e medie imprese che sono state schiacciate da queste liberalizzazioni, a discapito invece dei centri commerciali, delle grandi distribuzioni che hanno retto questi ulteriori oneri, costi, che derivano dalle aperture indiscriminate. Queste liberalizzazioni non hanno portato a nuove assunzioni, perché semplicemente i dipendenti attuali sono stati oberati di turnazioni di lavoro e non ci sono stati neanche incrementi delle vendite, perché semplicemente gli acquisti sono stati diluiti da 6 a 7 giorni. Questa è quindi la prima proposta di legge del Movimento 5 Stelle che sbarchi in Aula. La maggioranza ha presentato due emendamenti soppressivi per far decadere in Aula la legge. Questo è inaccettabile che la voce di un'opposizione del 25% rimanga inascoltata. Quindi ci opporremo in tutte le maniere in Aula nei prossimi giorni. Oggi in Aula abbiamo avuto la conferma che SEL, PD, Scelta Civica e PDL sono sostanzialmente favorevoli a queste liberalizzazioni selvagge e se ne fregano del referendum del 1995 che chiedeva di abolire queste liberalizzazioni e se ne fregano di una legge di iniziativa popolare che ha promosso confesarcenti sempre nella direzione che andava la nostra proposta di legge. Quindi abolire queste liberalizzazioni e difendere le piccole e medie imprese. Quindi noi continueremo a batterci per continuare a difendere le istanze dei cittadini. Grazie.